Paolo Caravetta, Vice Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calciotavolo. Dunque, movimento in continua crescita, in continua espansione. L'Italia è al primo posto, un movimento che raccoglie i grandi, raccoglie anche i giovani ed è indirizzato soprattutto adesso ai giovanissimi. Ma far conoscere davvero la gioia di questo sport e gioco che è il Subutio Calciotavolo. Assolutamente sì. Diciamo che la federazione intanto è molto... Io sono per primo contento che la federazione sia qui a Catanzaro perché sono calabrese anch'io per cui mi fa piacere che si porti alla ribalta una città calabrese nel panorama nazionale. Oggi abbiamo quest'open molto importante. Si sta disputando in preparazione delle prossime manifestazioni nazionali e internazionali perché già nel mese prossimo avremo il campionato di Serie D al quale parteciperanno alcune squadre calabresi che si sputerà anche questo in Calabria. Poi avremo i campionati massimi italiani di Serie A, B e C a San Benedetto e stiamo preparando gli europei per cui giustamente dicevi, parlavi dei giovanissimi perché in tutti questi tornei sicuramente ci sono gli osservatori sguinzagliati che stanno cercando di preparare la nazionale che a fine giugno affronterà in Belgio le altre nazioni europee. Ecco Paolo, noi stiamo parlando nell'ambito del quarto open organizzato dall'US Subuteo Catanzaro che è uno sportivo a Catanzaro qui all'Acconia di Curinga. La Calabria si sta muovendo tantissimo nel panorama del calciotavolo Subuteo quindi questo è per te da calabresi vicepresidente della federazione diciamo anche uno stimolo in più per fare ancora meglio. Assolutamente sì, Catanzaro è una società relativamente nuova, è un'antica società di Subuteo che si è rigenerata diciamo da qualche anno e sta facendo passi da gigante non solo a livello agonistico ma anche a livello organizzativo per cui mi va il mio applauso assolutamente a tutti i ragazzi e meno ragazzi perché poi il Subuteo è un gioco che praticavamo noi dalla nostra generazione ma che stiamo cercando di trasferire ai nostri figli quindi un'immagine sicuramente positiva per la Calabria e nel panorama nazionale sicuramente diciamo sempre la nostra e la continueriamo a dire sicuramente quest'anno nel proseguo della stagione. Ultime rapido flash, uno sport hobby, gioco, agonismo che è comunque aperto anche alle donne. Assolutamente, noi abbiamo una nazionale femminile che è vice campione del mondo e che l'anno scorso è stata campione del mondo in Francia, a Parigi. Abbiamo un movimento anche femminile che è in crescita e ancora diciamo ha macchia di leopardo per cui in alcune zone come la Sicilia, il Piemonte ci sono delle zone ben delimitate, la Campania sono molto forti e stiamo sviluppando il movimento femminile e questo sicuramente è un fiore all'occhiello della nostra federazione siamo la squadra più forte al mondo a livello femminile insomma insieme forse al Belgio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!